Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 24 luglio del 2018. Cosa è successo sui giornali? Beh, presto detto perché si ritorna sempre comunque a parlare del caso Fiat. Non fosse altro perché ieri i titoli in borsa hanno perso. Vi devo dire la verità, io non riesco a capire perché i giornali oggi si siano così tanto concentrati sulla perdita ieri dei titoli in borsa del gruppo Fiat. FCA ha perso l'1,5%. Ma di che stiamo parlando? Cioè stiamo parlando dal punto di vista finanziario non è anche di una presa di profitti. Zero! Sì, ha perso la Ferrari, il 4,8% e come nota forse qualche giornale, non in sole 24 ore, che si dovrebbe occupare di queste cose e che come sempre sulle questioni finanziarie ed economiche è il più moscio di tutte quando diventa una storia nazionale. Insomma, nella Ferrari si è vista una perdita superiore rispetto al gruppo Fiat per il semplice motivo che in Ferrari si pensava che Marchionne sarebbe rimasto anche dopo il 2019. Perché comunque a giugno del 2019 Marchionne avrebbe lasciato il timone del gruppo Fiat, ma non in Ferrari dove era importante ed è importante azionista. Insomma, mi sembra di dire che il perdita e lo scossone di borsa di ieri è stato il minimo che ci si potesse attendere dopo la dipartita così veloce di Marchionne per molti motivi. Uno tra tutti è perché la borsa comunque dava per scontato che Marchionne prima o poi se ne sarebbe andato. Quindi ieri è successo poco nulla. Tra l'altro oggi c'è un certo recupero in borsa. Quello che succederà è nei prossimi mesi si cercherà di capire se il nuovo leader della Fiat, l'inglese Meli, o come cavolo si chiama, continuerà ad avere la stessa visione manageriale di Marchionne. Importante invece, molto importante, è l'uscita di scena di Altavilla. Era l'uomo forse più fedele di Marchionne e uno degli uomini che nella Fiat era arrivato prima di Marchionne. 28 anni che Altavilla era in Fiat e si occupava dell'Europa. È molto singolare, state attenti, vedere come il Corriere della Sera in un pezzo sente cosa dice l'ufficio stampa della Fiat e nell'altro scrive senza sentire quello che dice l'ufficio stampa della Fiat. Allora qual è il piccolo orientamento che l'ufficio stampa normalmente e legittimamente dell'ufficio stampa della Fiat dà? Perché ormai ovviamente Altavilla è uscito, ha sbattuto la porta, si tratta di uno che pensava di entrare amministratore delegato essendo molto vicino a Marchionne, quindi non ci è riuscito e se ne va via. Beh, insomma, cosa è successa ed è la cosa straordinaria. A pagina 2 del Corriere della Sera noi leggiamo che Altavilla lascia peraltro perché è poco americano perché non conosce l'America e ormai l'FCA è un grande gruppo, diciamo più o meno americano, in gran parte americano. Testimonianza di questo, cioè la telefonata di Trump a Yaki e il Khan per le condoglianze che ancora non si devono fare, ma insomma per la situazione che si è venuta a creare in FCA. Vai a pagina 3, stesso giornale, Corriere della Sera, a pagina 2 dicono che Altavilla non conosceva l'America, a pagina 3 c'è un altro pezzo, mi sembra in questo caso di Carretto, che dice invece come Altavilla addirittura avesse preso un piccolo appartamento a Detroit perché voleva continuamente, nonostante fosse responsabile dell'Europa, ha una grande esperienza nella Fiat americana. Insomma è straordinario come uno e l'altro nello stesso giornale a distanza di una pagina si facciano le pernacchie a vicenda. La realtà è molto chiara, Altavilla è stato fatto fuori e quindi se n'è andato. Poi l'altra questione, come ha posto molto bene oggi un giornale non economico, cioè libero, in evidenza con un pezzo di Vittorio Feltri piuttosto singolare perché ha scritto 10 righe e poi ha riproposto un pezzo suo di non so di quanti anni fa, il vero uomo forte oggi della Fiat è Yaki Elkan, cioè il proprietario, l'azionista, l'erede dell'avvocato Agnelli, l'uomo che la controlla attraverso Exor, l'holding di famiglia che ha tante altre cose oltre la Fiat. Dice da questo si capiva da anni che il vero uomo forte, il nuovo avvocato Agnelli, è il signor Yaki Elkan. Altra questione molto singolare è la malattia di Marchionne, il tumore ai polmoni, di cui parla ieri Franzo Grande Stevens in una lettera di pagina 2 del Corriere della Sera titolata su tutt'altro. Cioè tu hai l'avvocato della famiglia Agnelli, lo storico avvocato che dice che Marchionne sta morendo per un tumore ai polmoni che è colpa delle sigarette e non titoli né metti un sommario su quello. Cioè il giornale ha la discrezione che non aveva colui che ha scritto la lettera al giornale. Questo è avvenuto ieri. Bene, oggi evidentemente pentiti del fatto di non aver riconosciuto o aver celato l'unica notizia di giornata, cioè di che sta morendo così improvvisamente Marchionne, cosa succede? A pagina 3, non più a pagina 2, dice il Corriere della Sera, unico giornale in Italia, tumore ai polmoni, possibile problema alla spalla perché era il tumore al polmone apicale, provato ad operarlo, possibile secondo consulto con gli oncologi problema alla, come si dice, ma alla orta. Insomma, da oggi invece il completo sputtanamento della privacy. Ieri ne ha, Giorgio Tocchiaug, ieri neanche un accenno nel titolo e nei sommari di quello che scriveva Franzo Grande Stevens. Io la trovo una cosa veramente, diciamo, un po' schizofrenica. Detto questo, i giornali ne combinano di tutti i colori. Fantastico oggi Pierluigi Bonora, che è l'uomo che ha seguito il giornale per 14 anni, mio amico, lo conosco bene, capo redattore, che si occupa di auto per il giornale non solo, che effettivamente ricorda come in una conferenza stampa in un salone dell'auto il capo della Volvo gli avesse detto che lui era il sosia davanti a tutti di Marchionne. In effetti è molto simile Pierluigi Bonora a Sergio Marchionne a un punto di vista fisico ed è molto, devo dire, a ragione Marchionne, io l'ho visto all'opera, a ragione Bonora, lui e Marchionne avevano una specie di, come possiamo dire, rapporto straordinariamente, se non fosse altro, perché lo seguiva negli ultimi 14 anni in maniera, diciamo, pedissequa. Direi che su questo c'è anche Achille Serra, lo chiamo sempre Michele Serra, che fa un pezzo come sempre scritto bene da Serra, ma un po' confusionario, secondo me, in cui dice, beh, insomma, tra il grande re Agnelli e il grande re Marchionne, certamente uno di quei casi in cui si può dire che il presente è meglio del passato, e vabbè, passi. E poi dice, in realtà non si capisce perché la sinistra non possa criticare Marchionne, posto che rappresenta esattamente tutto quello che la sinistra non dovrebbe rappresentare. Anche su questo sono abbastanza d'accordo con Serra, cioè trovo ridicola quella sinistra che di fatto oggi va ad omaggiare il campione, diciamo, delle politiche non di sinistra. Detto questo, una cosa è omaggiare l'uomo, come dice chiaramente Bertinotti, e una cosa è omaggiare il simbolo, terreno molto scivoloso su cui oggi si interroga Serra sulla Repubblica. E l'altro tema fondamentale che mi piacerebbe molto sapere è dove vanno a finire questi 630 milioni, che bene il Sole 24 ore quantifica come eredità di Marchionne ai figli, alle fondazioni, quanto ci pagherà di tasse, nella morbosità dell'informazione 2.0, ma insomma, sapere come vanno a finire questi soldi è per me di un certo interesse. Mi riesco a capire che questo è veramente il buco della serratura. Io se potessi indagherei un po' per esempio come si pagano le successioni nel cantone svizzero dove risiede Marchionne. E se può prendere la famosa compagna che sta lì a vegliarlo, se può avere un'edità o lo prendono soltanto i figli. Ha fatto clamore un'intervista che ieri io non vi ho citato e male ho fatto di Mario Giordano sulla verità a Casaleggio, non ci sarà bisogno del Parlamento, dice il giovane re di Casaleggio, per esercitare la democrazia. Una grandissima stronzata che dice, io direi che forse la cosa più intelligente la dice Battista, ogni tanto il Corriere tra Battista e Mieli qualche cosa, tra poco ne parleremo, la beccano, dice, beh insomma mi sembra che sul fatto che la democrazia non ci sarà più bisogno perché servirà la democrazia diretta e si tratta soltanto dell'ultimo seguace della retorica antidemocratica, molto poco moderno in questo Casaleggio. Mi sembra che l'altro tema fantastico oggi l'ho colto meglio di tutti, Mattia Feltri, perché tutte queste sono pippe, Rousseau e la volontà generale, sono tutte pippe. Voi vi leggete oggi la stampa in 20 righe, Mattia Feltri ci spiega qual è la differenza tra la volontà popolare e la democrazia rappresentativa. E dice se avessimo seguito la volontà popolare, l'urlo della piazza, l'incitazione del momento, oggi non avremmo la TAP, non avremmo la TAB, non avremmo la libertà di mandato, che erano le grandi tre polemiche sulle quali il Movimento 5 Stelle è stato eletto. Una volta che sono stati eletti la democrazia rappresentativa, che vuol dire responsabilità, fa sì che si capisca perfettamente che abolire la TAP ci costa miliardi e non fa tutti i danni che si deve fare, abolire la TAP è una follia e la libertà di mandato è una cazzata e abolirla nei termini in cui aveva detto Grillo. Cioè Mattia Feltri prende il caso in laboratorio del Movimento 5 Stelle e dice brutti cornuti, il vostro leader dice che servirà la democrazia diretta, voi siete l'esempio più lampante di come la democrazia da diretta diventa rappresentativa e non è finalmente responsabile. Insomma, un pezzo sublime. L'unico commento oggi che si deve leggere alla assurda intervista di Casaleggio, non per Mario Giordano ma per quello che ha detto Casaleggio, è l'interpretazione, secondo me, che oggi ha fatto Mattia Feltri. La volontà di generale dice Françoise, che parla francese e che scrive in francese con gli accenti giusti, per noi liberisti è assurda. Sulla trattativa Stato-Mafia, molto interessante sulla TAP, ci sono tantissime altre cose a proposito di TAP, molto interessante l'intervista di Emiliano oggi alla stampa, che dice io non penso che sia sbagliata la TAP e la diversificazione energetica e il gas che arrivi in Puglia, ma non si deve fare là, si deve fare 300 chilometri più a nord, questo è straordinario. Emiliano decide cosa fare della TAP, lo trovate sulla stampa, il caso di Macron e il suo guardaspalle mi interessa relativamente poco, mi interessa molto i giornali, la storia di questo 26enne marocchino, figlio di Marocchini che diventa il suo capo della sicurezza, Le Monde fa vedere che picchiava al primo maggio dei manifestanti con un casco della polizia di cui lui non poteva averne possesso, grande scandalo francese anche per i privilegi e le coperture che ha goduto da parte di Macron e su questo pare che, secondo i titoloni dei giornali italiani, oggi le riforme francesi si sarebbero fermate per questo scandalo, diciamo molto tangentopolesco, anzi piccolo tangentopolesco. oggi Mieli ritorna sulla trattativa Stato-mafia e lo fa in maniera intelligente, secondo me come sempre Mieli, anche se molto discutibile perché Mieli non prende mai una posizione, cioè sta sempre con il vincitore, questa è la sostanza di Mieli, quindi quando annusa che non si deve mettere contro qualcuno lui va perfetto, cioè annusa sempre giusto, però sulla trattativa Stato-mafia utilizza degli argomenti straordinari, sa che oggi quello che dice, si può dire, meno polemico e politicamente scorretto di un tempo, e dice che la Stato-mafia è una minchiata dal punto di vista storico, lo dice in maniera straordinaria e io vi consiglio la lettura di questo giornale, dice e racconta i due casi fondamentali, gli episodi del 92 e 94 che vedevano Amato e Ciampi, Presidente del Consiglio e Scalfaro connivente che sarebbero durati nel 94-95 per otto mesi con Berlusconi odiato proprio da Amato, Ciampi e Scalfaro che avrebbe continuato proprio sulla trattativa Stato-mafia, cioè su tutto in disaccordo tranne che sulla mafia e parte del decreto Biondi, quello che è stato bocciato secondo Travaglio e Damaroni, sarebbe poi stato approvato dal centro-sinistra dopo di Berlusconi, quindi un solo filo rosso era la trattativa Stato-mafia, divisi tutto tranne che sulla trattativa Stato-mafia, questa è la logica per la quale Mieli dice che si tratta di una minchiata questa ricostruzione giudiziaria, ma il punto vero non è questo, il punto vero sostanzialmente è che si accusa soltanto Berlusconi per motivi politici e comunque di, come possiamo dire, character assassination, una cosa che è avvenuta prima dell'esistenza di Berlusconi, 92-93, con i signori Amato, giudice della Corte Costituzionale, Ciampi, Padre della Patria, Scalfaro, rigoroso Presidente della Repubblica, i veri nemici di Berlusconi sono quelli che hanno iniziato la trattativa Stato-mafia. Questo è il vero argomento assurdo che poi ha portato, quindi, durante governi completamente diversi a tre generali dei Carabinieri unici condannati perché avrebbero e sarebbero riusciti a banorare tutto lo Stato, da estra, sinistra, berlusconiano, anti-berlusconiano, per una trattativa che poi loro stessi, non si riesce bene a capire, sono i primi ad aver arrestato più miofosi tutti gli altri. Beh, straordinario. Nel solito modo di fare mielista, questo è un attacco diretto a Marco Travaglio e a tutti i giustizialisti che hanno fondato sulla strateria Stato-mafia la loro carriera, ma ovviamente nel pezzo lo viene, lo utilizza in maniera furbesca, citandolo ma non attaccandolo. Ma questo è il mielismo, come voi sapete, mai prendere una posizione che possa domani essere contro la tua, diciamo, credibilità nei salotti che contano. Oggi, a proposito di Travaglio, da segnalare il botto e risposta con Saviano sulla questione proprio del ministro della malavita, cioè Salvini, cosa straordinaria perché scrive Saviano, ma insomma, per quale motivo mi attacchi sulla questione di Salvini? Perché sostanzialmente Travaglio nei giorni scorsi ha detto che i veri ministri della malavita erano quelli della trattativa Stato-mafia e non Salvini. Insomma, e questo imbarazzante scambio di lettere, Saviano rimane della sua idea, cioè che Salvini è il vero ministro della malavita e Travaglio che gli risponde come due sordi che cercano di parlarsi, anzi si riescono a parlare i sordi dei cieco, dei muti, non lo so, non so, due che cercano di parlarsi e fanno due articoletti, uno rimane della sua idea e l'altro dell'altra. Cioè, Saviano dice quello è il ministro della malavita e quell'altro dice no, la vera malavita era la trattativa Stato-mafia, altro che quella di Salvini. Insomma, imbarazzanti tutti e due. Bianchi Clerici, secondo la style, dovrebbe diventare presidente della RAI, però c'è un problemino che ha pagato una multa di 363 mila euro perché lei insieme al Consiglio di Amministrazione della RAI nominò direttore generale Meocci, cosa che non si poteva fare per palese incompatibilità. Questa cosa la ricorda il fatto che insieme ad altri giornali racconta di queste trattative non Stato-mafia ma Movimento 5 Stelle-Lega per nominare i vertici della RAI. Se queste le avesse fatto qualcun altro sarebbe stato uno scandalo, ma comunque le trattative di queste ore sono su RAI, Ferrovie dello Stato, Autority, sono accesissime. Direi, intervista a conto, Igor, dove è l'intervista a conto? Me la sono persa oggi? No, le nomine non sono ancora fatte, ne devono fare tante altre. Carlo ce l'ha con Travaglio, Giuseppe, insomma, mi fa dei complimenti che non cito, a me questa storia di Stato-mafia mi pare uno scappellamento a destra come fosse Antani, dice Stefano, sono d'accordo con lui, Aug da Londra Alberto, Francesca ha un cervello in due e non ci arrivano, Paolo Renzini basta Saviano, basta anche il zuppa di porro, condividetela se vi piace, ieri abbiamo fatto dei numeri incredibili sul sito nicolaporro.it sulla zuppa di porro di ieri, andate a guardare i numeri che sono pubblici, devo dire che i numeri così fosse neanche la televisione. Un grande abbraccio a tutti voi e grazie per seguirmi e per condividervi se vi piace. Ciao!